Sono diventati 27 nuovi casi positivi al coronavirus a Sciacca. Nella tarda mattinata di oggi il sindaco Francesca Valenti ha fatto sapere di aver appreso dall'unità di epidemiologia dell'Asle di Agrigento che sono risultati positivi ulteriori sei casi. E sono questi i dati ufficiali, in una condizione che già aveva registrato delle evoluzioni che solo oggi hanno avuto l'imprimatur dell'ufficialità. E così ogni giorno che passa torna ad assumere sempre più i caratteri dell'emergenza, come a febbraio-marzo la situazione che riguarda l'ospedale di Sciacca, dove oltre alle due donne ricoverate, una delle quali in terapia intensiva, nelle scorse ore un uomo 71enne si è presentato al pronto soccorso con i sintomi del coronavirus. L'esito del tampone ha poi confermato la sua positività. È il ventitresimo caso, anche se al momento l'Aspe di Agrigento non ha ancora aggiornato i dati, probabilmente lo farà nelle prossime ore. E i numeri del focolaio Sciacchitano potrebbero essere ben più alti. Immediatamente è scattato il trasferimento del paziente nel reparto di malattie infettive del Sant'Elie di Caltanissetta. La stessa cosa non era stata possibile invece sabato scorso per la donna di 60 anni, che è stata ricoverata al Giovanni Paolo II e che è tuttora in uno dei quattro posti di terapia intensiva che erano stati approntati quando già si temeva il peggio. Evidentemente le sue condizioni sono state considerate dai medici particolarmente critiche, al punto tale da non potere più procedere al trasferimento al lab di riferimento, che è per l'appunto ancora il noso come un iseno. L'altra persona positiva di 94 anni è raggiunta presso l'area di emergenza dell'ospedale di Sciacca, a quanto pare senza i sintomi del Covid, ma con una patologia diversa, con uno stazionamento di almeno 48 ore in area grigia. Tutto questo avviene mentre però l'ospedale di Ribera, che come è noto è stato indicato come centro Covid dall'assessore Ruggero Razza, non è ancora pronto per esercitare le sue funzioni, anche se non va dimenticato e il protocollo stabilisce ancora che, come detto per la provincia di Egrigento, il reparto di malattie infettive a cui fare riferimento è l'ospedale di Caltanissetta e che solo dopo il riempimento del postiletto del Sant'Elia si potrà eventualmente fare ricorso al Fratelli Parlapiano. Non si pensava che in tutto questo si tornasse a fare ricovera all'ospedale di Sciacca. La situazione si complica e se da un lato è comprensibile che le autorità affrontino difficoltà nell'organizzazione sanitaria, dall'altro la maggioranza della popolazione non nasconde più la propria preoccupazione. Adesso a Caltanissetta sono tre le persone saccensi ricoverate in malattie infettive e altre due persone sono ricoverate a Sciacca, una delle quali in terapia intensiva. Eppure il weekend da cui siamo reduci ha confermato tutte le criticità che si temevano con assembramenti, soprattutto giovanili che sono proseguiti dalla via Roma allo stazione tra pub e ritrovi tradizionali dove la considerazione di distanziamento sociale e mascherine è stata pari a zero. Ne viene fuori una condizione a dir poco contraddittoria nella quale urgono provvedimenti restrittivi che prevedano sanzioni e ad aggravare la situazione della diffusione del Covid-19 a Sciacca. C'è sicuramente anche il caso di un anziano deceduto di cui si è appresa, non si sa se è pre o post mortem, la positività al coronavirus. Ebbene, sono stati annullati i funerali, una cinquantina di persone e parenti diretti si sono dati l'auto isolamento. Il sindaco ha detto che questo sarebbe da considerarsi un ventottesimo caso, ma trattandosi di una persona deceduta i numeri rimangono 27. Dal punto di vista statistico, a Sciacca i numeri riguardanti positivi sono i più alti in provincia di Agrigento e tre più alti in Sicilia. Ma tutti siamo fin troppo consapevoli che la situazione reale probabilmente va ben oltre alla rappresentazione dei numeri. Stiamo pagando il prezzo di un'estate vissuta pericolosamente tra vacanze e movide. Forse non è l'inizio dell'anno scolastico il problema più grave che questo territorio è chiamato ad affrontare. Nel frattempo, nelle ultime 24 ore in Sicilia, nuovi casi positivi sono stati 116, 66 dei quali sono stati individuati nella missione Speranza e Carità di Palermo. Attualmente ci sono 2.316 positivi, di cui 194 ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva, 2.109 in isolamento domiciliare per un totale di 5.962 casi dall'inizio dell'epidemia.